Amici di Tele1, siamo quest'oggi a Corigliano Scalo, nel plesso Madonna della Catena Contrada Cannata, dove sorge un istituto frequentato da tantissimi bambini. E' in corso una pacifica ma vibrante protesta dei genitori, in particolare delle mamme e degli stessi, per chiedere di mettere in sicurezza la zona. Quali sono i problemi della zona? Non soltanto si chiedono interventi di decoro urbano, di pulizia, perché sono presenti numerosi cumuli di rifiuti, detriti, erbacce, ma soprattutto si diceva c'è un problema di sicurezza qui alla salita alle nostre spalle, perché manca un vigilo urbano. Praticamente i genitori chiedono all'amministrazione comunale questa figura di ausilio per la sicurezza del traffico, di controllo alla circolazione stradale, che attualmente è presente solo dinanzi all'istituto Paganino del medesimo plesso Madonna della Catena Cannata, qui nelle vicinanze, ma non qui. Quindi si chiede una figura del vigilo urbano. Non sono mancati purtroppo anche negli ultimi giorni episodi dovuti all'inciviltà di taluni automobilisti che hanno messo in arrepentaglio la sicurezza anche degli stessi bambini. Come vedete una pacifica ma vibrante protesta delle mamme che simbolicamente ma confermezza con questa delimitazione e cercano di delimitare appunto il passaggio dei cittadini, di quei genitori che vogliono raggiungere addirittura dinanzi alla porta i propri bambini. Siamo in presenza di uno di questi genitori, di un papà, Pier Giorgio De Cicco. Pier Giorgio, metti in sicurezza la zona e la figura del vigilo urbano. Perché è importante? Beh, si è stato già abbastanza chiaro tu nel rappresentare le problematiche che riguardano questa zona qua. Innanzitutto rappresento un gruppo di mamme che non è la prima volta che segnalano il problema. È capitato già altre volte che i bambini hanno rischiato di essere investiti purtroppo dai genitori che parcheggiano in malo modo. La richiesta che fanno i genitori, sempre pacificamente, compreso io che sono genitore, è innanzitutto la pulizia di quest'area qua perché veramente si è ridotta come il Bronx. E poi un'adeguata, diciamo, come posso dire, strutturazione dei parcheggi e in più la richiesta di un vigilo urbano che possa dirigere almeno nell'orario di uscita e di entrata dei ragazzi il traffico delle macchine. Tutto qua. E allora non si chiede mica alla luna l'amministrazione comunale appello al sindaco, all'assessore competente affinché venga ripristinata, venga messa in sicurezza la zona con la figura di un vigile urbano come chiedono queste mamme alle quali va tutto il nostro sostegno per il loro esempio di cittadinanza attiva nonché per interventi di decoro urbano.